Oggi presentiamo ufficialmente il referendum dopo un mese dall'annuncio che avevamo fatto di voler fare questo referendum consultivo comunale sul digestore sì o no a Bellocchi e Falcineto, questo era il quesito. Visto anche la confusione e anche le contraddizioni che abbiamo sentito in queste settimane dove una settimana si dice sì, si farà a Bellocchi, la settimana dopo si nega, poi si dice che sarà Ancona, poi si dice che sarà in un altro comune. Si vota contro una mozione in consiglio comunale che diceva no a Bellocchi e Falcineto, ci vuole chiarezza, il sindaco bisogna che si esprime in maniera chiara con tutti i cittadini, nel frattempo infatti i cittadini hanno continuato a raccogliere le firme, abbiamo raggiunto quasi il doppio di quello che ci serve per presentare il quesito referendario, lo presentiamo ufficialmente oggi, attendiamo il sindaco insieme alla commissione che valuti il quesito e possa far esprimere a questo punto i cittadini, visto che la politica non è capace, non è stata capace in questo ormai anno, perché è passato un anno, a decidere, derimere questo tema che sta molto a cuore i cittadini che non vogliono, come ad esempio noi non vogliamo, un tipo di impianto così com'è a Bellocchi e a Falcineto. Quante sono le firme e qual è il bacino dalle quali avete attinto? Beh, zone comunque periferiche in questo momento, abbiamo fatto degli incontri, Carrara, Cucurano, Falcineto, Bellocchi, Rosciano, Centinarola, anche Sant'Orso, però altri ne vorremmo fare, un altro esempio lo abbiamo già lunedì a Rosciano, quindi in questi incontri poi a questo punto non raccoglieremo più le firme per il referendum, ma comunque la petizione popolare va avanti, chi vuole può sottoscrivere la nostra proposta referendaria. Grazie.